Ciao ragazzi, benvenuto a un nuovo video, facciamo un nuovo video per brevi, oggi facciamo un nuovo video per brevi, oggi giocavo un nuovo gioco bellissimo qua. In questo video dovete fare questo gioco, insieme al canale, polliciare, tiri tutto il facebook, tiri tutto l'indagram e tiri tutto l'ipidocchio, e dite tutto il canale che stiamo a inventare i numeri creativi, perché domenica sta arrivando un nuovo video, quindi ragazzi, abbiamo questo gioco che sto, qua vi faccio vedere, la schermata del schermo, vi faccio vedere il gioco, quindi, esattiamo. Abbiamo questo gioco, togliamo la modichetta, e giocammo il gioco, allora ragazzi, prendiamo prima cartella, questo, o questo qua, primo posto, questo come decide, faccio vedere, 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 faccio vedere Questo gioco non è mai difficile. Ragazzi se volete questo gioco, se volete questa teglia e vi dice nei commenti se volete la seconda parte di questo gioco. Guardate questo gioco. Tutti si dovete toccare. Vabbè, riproviamo. 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 E lui muore. Facile. Facile. Ragazzi questo gioco è bellissimo. La seconda parte devo fare. E lui muore. Non muore. Acqua. Acqua. Ecco. Ecco. E lui muore. E lui muore. E lui... come si fa a ucciderlo? ah finalmente perché di nuovo io non volevo il gioco e non vedete che ha muori bombe o le bombe e lui muore no i ninja ha detto ninja no 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 meno male avanti faccio l'intimo questo gioco non mi fa arrabbiare ragazzi perchè ho attaccato io metto la e io perchè no mi facciamo la mi facciamo la mi facciamo la mi facciamo la ti ho sbagliato no va bene va mi facciamo la mi facciamo la mi facciamo la mi facciamo la No, divertiamolo, divertiamolo. Diverciamolo. Facile l'intimo, facile. No, no, divertiamolo, divertiamolo, divertiamolo. Mori, via. Ma che ne notiamo? Mi mancava troppo che ne notiamo. Che ne ho contati? Bravo! Wow! E lo so, non ce la vuoi, non ce la vuoi, non ce la vuoi, cosa la vuoi. Wow! Vabbè, divertiamolo. Wow! No, non qua, non qua. Amo. Abbassano. Amo. Amo. Va bene, ah. Come ti fa a uccidere questo? Questo mio picchio. Come ti fa a uccidere il ninja? Ragazzi, complicato. 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 Oh. Un po' lekker. Oh. E' pronti. E' giusta. E' giusta. Oh. 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 tutte le telle, non vale perché devo farlo, se volete che lo faccio al capo usciamo, ma le amiche dei cartelli che ci sono, ah quanti livelli ci sono, quanti livelli ho 16 livelli e 22 livelli, 32, 32, 35 livelli, 32 livelli, se volete faccio una donna fatta, perché mi piace questo gioco ragazzi, ragazzi non ne faccio ridere, no, non facciamolo, vai, ma che vale l'itmo tutto il gioco, e mica adesso le livelli, no, 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 vai, che lo fai, no, va bene, va bene, va bene, facciamolo, non lo trovo quello là, non lo trovo quale motivo, non l'ho fatto, amore, amore, scusate, devo di fare questo, gara di faccio. non male, non male, penso, vabbè, mi voglio vedere un po', ho, oh, ho, bellissimo questo, come l'ha uscito, va bene, va, bravo bravissimo sono perfetto andiamo avanti non vediamo altro tempo non vediamo altro tempo che è che è fatto no bene va no bene va e come ti fanno? uno e due sbagliato uno e due e perché va bene va bene avanti perché non è che posso stare qua a tutta la vita va bene va mi facciamo tutto allora basta ci stiamo lavorando tutti allora vabbè come si fa? facciamolo bellissimo questo gioco l'ultimo livello vediamo quando siamo arrivati esci allora abbiamo superato il livello che è il gioco livello ninja livello eh come si dice numerare tipo numerare livello diciamo su livello livello madre dove c'è il palo e livello non so che cos'è fino a fino a 320 che io non troverò mai estritti ah perfetto l'ultimo la mia subida non me ne va sbagliato sbagliato ripassiamolo 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 nooo ripassiamolo come come è questo bene va ooo ooo chiudi 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 questo video qua per finire qua questo video se ti piatti questa serie di questo gioco vedete nei commenti adesso strendimelo così facciamo livello le vediamo subito le vediamo subito così faccio altri giochi quindi niente ragazzi iscrivetevi al canale polliciare iscrivetevi su facebook iscrivetevi su instagram iscrivetevi sui dukidocchi inserite il secondo canale iscrivetevi su un bel creativo inseritevi anche monotoria telegram le foto di offerta del giorno inseritevi pure lì in descrizione trovate il telegram quindi niente ragazzi io giusto questo gioco quindi niente ciao ciao